Stava percorrendo Vioglianico diretto a Riva Roma. E' uscito fuori strada in curva, terminando la sua corsa nella roggia che costeggia la carreggiata contro la guardrail. E' accaduto questa sera, martedì 9 gennaio, poco dopo le 18.30, ad un giovane a bordo di un Volkswagen Tiguan. Fortunatamente il conducente è rimasto illeso. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia locale. Grazie a tutti.